Il fondo Cusio Solidale è finalmente in realtà, è stato pubblicato il bando, qui possono accedere diverse associazioni, con quali finalità, con quali scopi? Il bando Cusio 20.24 presenta in quattro aree, quella dell'educazione, quella della socialità, quella della solidarietà e quella delle tradizioni, dei bandi per le associazioni, gli enti del terzo settore, dei comuni, delle parrocchie, delle associazioni del territorio del Cusio, ha una finalità di attuare il principio di solidarietà, di sussidiarietà, ovvero aiutarci ad aiutare. Dunque le associazioni che hanno lavorato alla Cittadella del Gusto nel contesto della festa del Comitato San Vito potranno beneficiare di un sostegno alle varie attività di restauro, di aiuto, di prossimità, di educazione, ma anche di recupero delle tradizioni del territorio, proprio perché insieme si sono recuperati, grazie alla fondamentale opera di sostegno, di concertazione e di promozione, di fondazione comunitaria del VCO, una fondazione di comunità dove le associazioni della comunità cusiana si sono ritrovate come a casa.